Chi è Matilde Calamai? Innanzitutto è il volto della bellezza e della salute di RTV38, ha iniziato come fotomodella per poi dedicarsi alla conduzione di trasmissioni televisive. L'altra domanda che sorge spontanea è dove vuole arrivare Matilde Calamai? Sì, perché oltre che occuparsi in prima persona di bellezza e benessere nelle proprie trasmissioni, vuole dimostrare che non è solo l'aspetto fisico a tenere banco, ma anche l'intelletto. È Natale, almeno a Natale fatemi cantare, ma adesso un servizio di una persona che conosco molto molto bene. Vediamo! Navigare informati è la trasmissione interamente dedicata ai diportisti, che da più di dieci anni fornisce informazioni e consigli utili per navigare e godere del mare in tutta sicurezza. È una trasmissione di servizio, dunque, che nasce dalla passione e da un'idea di Marco Campione e di Dino Emanuelli, realizzata in collaborazione con le Capitanerie di Porto Guardia Costiera. Coltiva il futuro con le azioni giuste. Partecipa anche tu. Sottoscrivi le azioni della Banca di Credito Cooperativo di Vignole e della Montagna Pistoiese. Se ci sei, fatti vedere. Una trasmissione dedicata per chi ama vivere la nostra città, i suoi eventi, le sue bellezze, ma soprattutto per chi ama dire la propria. Ci piace definirlo un face reality. Proprio come Facebook possiamo condividere tutto, sentimenti, emozioni, dire qualcosa a qualcuno. Ma come fare? Quando incrociate le nostre telecamere potete dire quello che state pensando in quel momento, dare informazioni, consigli. Ma cosa state aspettando? Se ci siete, fatevi vedere. Io sono Matilde e mi faccio vedere. Tu ci sei? Take a look. Siamo nel corridoio basariano, proprio sul Ponte Vecchio, professore, che Hitler non ha batté. Come mai? Apriamo in bellezza, bellezza, simpatia e bravura, perché abbiamo qui con noi Matilde Calamari. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che piacere, mamma mia. Ciao. Benvenuti a Vivi in bellezza. Quest'oggi sono venuta a trovare il professore Vincenzo Del Gaudio, specialista in chirurgia plastica ed estetica. Ben ritrovato, professore. Grazie, arrivederci a tutti e ricordate che la bellezza parte da dentro. Alla prossima. Non aspettare il temporale, se corri subito al riparo puoi stare sereno. Dona il tuo 5x1000 a Alice Puglia Onlus. Quest'oggi siamo ospite all'Accademia Cinofila Fiorentina, con noi Coco, uno dei conigli, che vive insieme ad altri coniglietti. Dottore, che tipo di animale è il coniglio? I remember years ago When you're trying to catch me inside And connect my mind Straight into your heart And then the summer fly away I run back into my life And you start to call me Every day and night I will try to call you When I'm back in town Per questa settimana è tutto. Se volete rivedere le puntate oppure semplicemente avete delle informazioni, delle richieste, potete farlo attraverso i nostri social network. Grazie, arrivederci a tutti e alla prossima puntata. Grazie, arrivederci a tutti e alla prossima puntata. Grazie a tutti e 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 a tutti.